Mi candido alle prossime elezioni regionali con Maiorino Presidente perché credo nel progetto del patto civico, una lista composta da persone come me che arrivano dal territorio, sono un amministratore locale, in questi anni ho avuto l'opportunità di ascoltare i bisogni dei cittadini e credo che sia fondamentale continuare su questa strada perché dal territorio arrivano anche le opportunità migliori. Mi piacerebbe occuparmi di sicurezza, sono convinto che sia un tema strategico per aumentare la qualità di vita all'interno della nostra regione, ma non dobbiamo assolutamente dimenticare che il nostro deve essere un servizio sanitario che dia la possibilità a tutti di curarsi, che l'assistenza sanitaria sia garantita a tutti nelle stesse condizioni. Dobbiamo ritornare a mettere al centro i bisogni, la salute del malato, dei cittadini, dobbiamo rendere loro un servizio di qualità perché i cittadini lombardi meritano di meglio, meritano un territorio sicuro, meritano un territorio di cui ci si prende cura, dobbiamo contrastare assolutamente urbanizzazioni selvagge, dobbiamo preservare il nostro suolo per evitare che questo venga depauperato e che ci possano essere sprechi per noi. È l'occasione per la nostra regione di cambiare, con Maiorino Presidente, la mia candidatura è una candidatura del territorio e voglio dare il mio contributo mettendoci l'impegno massimo possibile. Quindi sono convinto e sono sicuro che i cittadini, anche quelli più delusi, più scontenti dalla politica, possano riavvicinarsi e sostenere il nostro progetto perché è un progetto nuovo, innovativo, che dà una nuova luce al progetto Lombardo e rende giustizia ai lombardi, ai tanti lombardi che lavorano tutti i giorni, alle imprese, alle famiglie, a coloro che rendono grande la nostra regione. È proprio per loro che dobbiamo lavorare perché meritano di meglio.